Non appena si sarà placato il polverone innescato dalle dimissioni dell'assessore al bilancio Giulia Pusterla, c'è da scommettere che i fari torneranno a essere puntati sul destino politico di Luigi Cavadini. Fino a pochi giorni fa, infatti, era proprio l'assessore alla cultura di Palazzo Cernezzi l'uomo politicamente più debole dell'esecutivo guidato da Mario Lucini. Il flop in termini economici, passivo di 217 mila euro e di pubblico, nemmeno 17 mila visitatori, della mostra dedicata a Sant'Elia ha inevitabilmente messo sulla graticola Cavadini, il quale, pur avendo ripetutamente incassato la fiducia del primo cittadino e a dispetto della mozione di sfiducia presentata alle minoranze, è ben conscio di giocarsi il tutto e per tutto a partire dal posto ingiunta con il secondo evento in programma per il 2014, esposizione sulla quale sono finalmente filtrate le prime indiscrezioni che, peraltro, confermano la rischiosissima linea d'azione dell'assessore, ossia la continuità assoluta con la prima mostra, almeno dal punto di vista scientifico e contenutistico. L'evento che dovrebbe svolgersi la prossima primavera a Villa Olmo partirà esattamente da dove era finito quello della scorsa edizione, cioè dalla visione urbana di Antonio Sant'Elia del quale dovrebbero essere nuovamente esposte alcune opere, proprio per segnare il filo rosso tra gli eventi. Da questo punto fermo la mostra dovrebbe poi estendere la prospettiva ai maestri del futurismo, tra i quali Boccioni e Balla, per poi offrire anche uno sguardo in movimenti peculiari quali l'aeropittura. Il percorso, infine, sempre tenendo come tema principale la città vista nelle sue diverse declinazioni, dovrebbe passare il testimone all'avanguardia architettonica della seconda metà del Novecento. Insomma, nessuna grande sorpresa rispetto alle previsioni e aspetto forse più pericoloso, senza scatti particolarmente innovativi. La vera novità, piuttosto, è che non sarà più Marco De Michelis a curare la grande mostra. Al suo posto dovrebbe arrivare il critico d'arte docente di storia dell'Accademia di Brera Flaminio Gualdoni, già direttore della Galleria Civica di Modena, dei Musei Civici di Varese, della Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano. Gualdoni è stato anche commissario alla 44esima Biennale di Venezia del 90, curatore di numerosissime mostra a livello nazionale, è stato collaboratore delle pagine culturali del Corriere della Sera. Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, infine ecco un'altra possibile svolta rispetto al passato già anticipata nelle scorse settimane. Non dovrebbe essere più la Como Servizi Urbani a occuparsi degli aspetti organizzativi e di budget. Di recente, infatti, Cavadini ha incontrato Natalina Costa, amministratore delegato di 24 Cultura del gruppo Sole 24 Ore. Ai privati potrebbe essere delegato tutto il cosiddetto rischio di impresa, fronte ovviamente della gestione intera dell'aspetto economico.